Neanche il tempo, neanche il tempo di pubblicare il video sul commento delle partite delle italiane in Champions League e Europa League neanche il tempo di dire, sì vabbè dai la Juventus 3 a 0 al Camp Nou non può essere invece è, attenzione, gufata, gufatissima che ho fatto qualche ora fa adesso faccio la controgufata quando mancano poco più di due minuti faccio la controgufata per il Barcellona bentornati ragazzi, che dire, allora nel video, tra l'altro andatelo a vedere se ve lo siete perso andatelo a recuperare, vi metto il bannerino come sempre qui sopra avevo detto che la Juventus ai punti per come si era messo il girone non meritava di finire prima in classifica è vero, è vero, però se vai a fare una prestazione del genere e a questo punto ti sei guadagnato il primo posto in classifica sul campo te lo sei guadagnato perché a Torino è vero, hai perso contro il Barcellona, uno dei peggiori Barcellona degli ultimi anni l'abbiamo già detto, attenzione, no, ok, tutto a posto però la Juventus aveva giocato, aveva creato con la nulla tiammorata e cose varie stasera il Barcellona è totalmente in balia della Juventus un Barcellona irriconoscibile anche in confronto alle partite viste ultimamente del Barcellona che non aveva certo brillato però stasera veramente due categorie diverse per le due squadre tra l'altro Langley che doveva essere anche espulso, non è graziato dall'arbitro poi sì, possiamo discutere sul rigore ma il primo secondo me non è il rigore però nel momento in cui lo fischi non c'è neanche da riguardare al bar perché non lo puoi togliere quindi il contatto c'è ma è talmente minimo che non è il rigore però l'arbitro lo dà e va bene così il secondo non c'è neanche da discutere non c'era neanche da andare al bar ci ha messo tre minuti credo per decidere che era rigore non era proprio necessario secondo me ma va bene ma la prestazione conta la prestazione è il bel duello tra Ronaldo e Messi molto storico diciamo tra i due giocatori che hanno segnato quest'epoca del calcio lo vince Ronaldo in questo caso anche se sul rigore ma lo vince a livello di prestazione, di partita, di squadra e anche individuale perché Ronaldo ha obiettivamente fatto una partita migliore di Lionel Messi intanto la Juventus è ancora in contropiede ma forse non c'è più tempo seguiamo insieme questi ultimi secondi ma vabbè la porta alla bandierina morata credo sì vabbè l'arbitro fischia, fischia, ok finita Juventus 3-0 passa come prima è una cosa molto importante non è una sciocchezza assolutamente perché ti permette di affrontare il sorteggio un po' più in modo tranquillo e andando ai singoli, a qualcun altro Quadrato ragazzi ma che non lo so, sembra Roberto Carlos cioè a parte che fa un assist mette quel pallone con una leggerezza con un tocco talmente morbido che cioè Quadrato non ha i piedi buoni però alzo le mani e c'è poco da dire fondamentalmente perché la Juventus ha stradominato questa partita stramerita di vincere e a questo punto stramerita anche di passare come prima nel girone quindi va 13 punti se non sbaglio o 14 no lo so vabbè non è neanche necessario che vado a controllare perché cambia poco Juventus quindi prima nel girone un breve commento anche sulla Lazio oggi pomeriggio non lo so ecco lì c'è un discorso diverso da fare perché la Lazio era partita molto bene poi ha peccato un po' di arroganza secondo me è andata lì a cioè Inzaghi più che altro io ho capito il discorso di Inzaghi sei sopra di un gol sei sopra di un uomo togli i migliori però ecco ha consegnato praticamente un 40 minuti di partita all'avversario che ok è il club brucio quindi ti va bene però poteva andarti peggio poteva andarti peggio anche perché c'è una traversa del club brucio al 91esimo circa che lì cioè se entrase fuori e uscire in questo modo sarebbe stato quanto meno disastroso ok però va bene così è andata bene alla Lazio che serva di lezione agli uomini di Inzaghi per il proseguimento di questa competizione quindi bravina la Lazio bravissima la Juventus doppietta di Cristiano Vado col spettacolare di McKennie tornando ancora alla Juventus che è il motivo di questo video alla fine Juventus quindi che andrà a giocarsi gli ottavi partendo come prima in classifica e è importante ripeto anche se negli ultimi anni ci sono state delle cose un po' particolari che quando arrivavi prima potevi beccare a volte il Real Madrid come secondo la stessa Juventus mi sembra il Paris Saint Germain anche quando era nel girone del Napoli comunque una tra Paris Saint Germain e Liverpool cambia poco però in questa edizione almeno della Champions League passare come primo sembra essere una cosa che comunque ti dà un certo vantaggio quindi bene la Juventus bene la Lazio e domani ci vediamo sicuramente per il post partita dell'Inter perché comunque andrà ci sarà tanto tanto di cui parlare quindi iscrivetevi ovviamente al canale attivate la campanella così vi arriva direttamente la notifica del video tantissimi mi piace sotto questo video se non vi è piaciuto lasciate un dislike ma fatemi sapere il perché fatemi sapere la vostra con un commento su questa Juventus e anche sulla Lazio ovviamente ci vediamo domani ciao ragazzi